I rincari delle materie prime rischiano di mettere in ginocchio le aziende vitivinicole dell'oltrepo che si stanno faticosamente riprendendo dalla crisi dettata dalla pandemia. La cantina sociale Torrevilla, con i suoi circa 200 agricoltori soci, si unisce al grido d'allarme lanciato nei giorni scorsi alle associazioni di categoria, confermando che se ai rincari, spesso ritenuti ingiustificati, non corrisponderà un adeguato aumento della remunerazione per i viticoltori, molte aziende agricole oltre padane rischieranno presto il default. Questo è un problema enorme che stiamo affrontando, c'è un aumento per il mio modo di vedere anche non giustificato di tutte le materie prime, e parlo di vetri, tappi, cartone, energia elettrica, qualsiasi cosa, che le aziende si stanno sobbarcando. Noi in modo specifico cerchiamo di farne fronte facendo magazzino in modo estremo ciò che negli ultimi anni era passato di moda, però questo può solo servire temporaneamente a fronteggiare questa situazione. Strettamente correlato il tema della concorrenza sleale di cui, secondo il Presidente della cooperativa, è necessario occuparsi prima che causi danni irreversibili. Noi avevamo segnalato già tre anni fa a Regione Lombardia questo non rapporto che c'è tra i costi di produzione dell'uva e i prezzi di vendita del vino sfuso o del vino comunque. Mi auguro che con questo decreto si affronti in modo radicale questo problema. Per l'anno che verrà il portavoce della cantina, che non è ancora rientrata nel Consorzio di tutela dell'Oltrepo, si augura più condivisione e scelte più lungimiranti per il rilancio di tutto il territorio. Auspico un risveglio, un impegno di tutto il territorio oltrepo, perché altrimenti diciamo si hanno dei risultati positivi ma con più tempo e con grande sofferenza.